Video numero 5 dedicato al calcolo dei limiti. Vediamo il primo, ricordo che stiamo calcolando dei limiti semplici, sono i primi esercizi che vediamo risolvere limite per x che tende a meno infinito e preciso che non presentano delle forme di indecisione, come vedremo quando affronteremo gli esercizi più complessi. Limite, dicevo, per x che tende a meno infinito di x al quadrato più 1 fratto x uguale. Qui abbiamo, sostituendo meno infinito meno infinito al quadrato, facciamo il passaggio, più 1 fratto meno infinito. Meno infinito al quadrato è più infinito. 1 fratto meno infinito è 0, quindi più infinito più 0 uguale più infinito. limite per x che tende a meno infinito di 3 più 1 fratto x meno 1 fratto x quadro uguale. Questo lo riscriviamo come 3 più 1 fratto meno infinito al quadrato uguale. 3, 1 fratto meno infinito è 0, in questo caso non ci interessa se da destra o da sinistra, e poi meno ancora 1 fratto più infinito è 0, e quindi il limite vale 3. Limite per x che tende a 5 da sinistra di x fratto x meno 5. Qui sostituiamo e otteniamo 5 fratto 5 fratto, scriviamo 5 meno meno 5, e questo significa che a denominatore stiamo andando a 0, in questo caso da sinistra, perché 5 meno è più piccolo di 5, e quindi come ho detto, a denominatore stiamo andando a 0 con valori negativi. Quindi questo significa meno infinito. limite per x che tende a 0, a destra, di parentesi 1 fratto x al quadrato più 1 fratto x al cubo, che moltiplica e alla x meno 2. Chiudiamo parentesi uguale. allora per quanto riguarda il primo termine abbiamo 1 fratto 0 più al quadrato, che quindi rimane 0 più, per quanto riguarda il secondo termine 1 fratto 0 più al cubo, e rimane anche questo 0 più, e poi questo moltiplica e alla 0 meno 2. uguale. uguale. La prima parentesi è più infinito, infatti entrambe i termini vanno a più infinito, ma facciamo tutti i passaggi, è meglio essere chiari. più infinito più infinito più infinito che moltiplica e alla 0 è 1, e quindi anche qua scriviamo ancora 1 meno 2, e questo è uguale a più infinito che moltiplica meno 1, cioè meno infinito. limite per x che tende a 0 del seno di x più 1 fratto il coseno di x. questo è uguale a seno di 0 più 1 fratto il coseno di 0, cioè 0 più 1, visto che il seno di 0 è 0, fratto 1, visto che il coseno di 0 è 1, e quindi questo è 1. limite per x che tende a più infinito di x al quadrato che moltiplica 1 meno e alla x. uguale. uguale. abbiamo più infinito al quadrato per il primo termine che rimane più infinito che moltiplica 1 meno e elevato a più infinito. uguale. uguale più infinito che moltiplica 1 lo trascuriamo meno e alla più infinito è meno infinito e quindi più infinito per meno infinito e questo sappiamo che vale meno infinito. limite per x che tende a 0 da destra di logaritmo naturale di x fratto il seno di x meno 1. uguale. uguale. il logaritmo naturale di 0 più fratto il seno di 0, qui non importa se specifichiamo o meno se stiamo venendo da destra o da sinistra, e questo significa meno infinito fratto 0 meno 1. meno diviso meno e più e quindi il risultato del limite è più infinito e quindi il risultato del limite è più infinito. limite per x che tende a 0 da destra del logaritmo naturale di x fratto x uguale. il logaritmo naturale di 0 più fratto 0 più uguale meno infinito fratto 0 più, cioè meno infinito. limite per x che tende a 1 di 2x quadro meno 1 fratto x al cubo più 1. qui abbiamo 2 che moltiplica 1 al quadrato meno 1 al numeratore fratto 1 al numeratore fratto 1 al cubo e 1 più 1 al denominatore 2, quindi un mezzo è il valore del limite. limite per x che tende a più infinito di 1 fratto x più 1 fratto x quadro più 2 è uguale a 1 fratto più infinito più 1 fratto più infinito al quadrato che è più infinito più 2 uguale. 0 per quanto riguarda il primo termine e 0 per quanto riguarda il secondo termine, quindi questo limite vale 0. limite per x che tende a 4 da destra del logaritmo in base 2 di x fratto 2 meno logaritmo in base 2 di x ancora. uguale, sostituiamo il 2 e abbiamo logaritmo, scusate, sostituiamo il 4 e abbiamo logaritmo in base 2 di 4 fratto 2 meno logaritmo in base 2 di 4. al numeratore non è necessario specificare che stiamo venendo da destra, al denominatore sì, vediamo perché. allora il logaritmo in base 2 di 4 è 2, infatti 2 è l'esponente da dare a 2 per la base per ottenere 4. al denominatore abbiamo 2 meno, il logaritmo in base 2 di 4 da destra è un 2 più, cioè un valore più grande di 2 e quindi sarà 2 fratto 0 meno, infatti stiamo sottraendo a 2 una quantità più grande di 2 e il risultato del limite è meno infinito. limite per x che tende a 0 da destra di e elevato a 1 fratto x più e elevato a x uguale. per il primo termine abbiamo e elevato a 1 fratto 0 da destra, per il secondo termine un e elevato a 0, non c'è bisogno che specifichiamo da destra, e quindi e elevato a più infinito, infatti 1 fratto 0 da destra è più infinito, più 1, cioè più infinito più 1, cioè più infinito. facciamo il duale, nel senso che questa volta x va a 0 da sinistra della stessa funzione dell'esercizio precedente, quindi e elevato a 1 fratto x più e elevato a x, questo è uguale a e elevato a 1 fratto 0 da sinistra più e elevato a 0, uguale. questo è e elevato a meno infinito più 1, quindi e elevato a meno infinito significa 1 fratto e alla più infinito più 1, uguale 1 fratto più infinito, ancora più 1, uguale 0 più 1, cioè il limite vale 1. vediamo l'ultimo limite per questo video, abbiamo limite per x che tende a 4 di logaritmo in base 2 di x meno il logaritmo in base 4 di x, fratto il logaritmo in base 4 di x, fratto il logaritmo in base 4 di x, fratto il logaritmo in base 2 di 4, 4 di 16. Questo è uguale. Per quanto riguarda il primo termine al numeratore, l'esponente da dare a 2 per avere 4 naturalmente è 2, meno l'esponente da dare a 4 per avere 4 è 1 e per il denominatore l'esponente da dare a 4 per ottenere 16 è 2 e quindi questo limite vale 1,5. Bene per questo video finiamo qui, in basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale, attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulla pubblicazione dei prossimi video, se il video vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile mettetemi anche un like e vi ringrazio, condividete sui vostri social così che potremo aiutare più persone possibili e anche far crescere il canale, perché no? In descrizione i miei contatti, mail, instagram, facebook, grazie, un saluto a tutti e alla prossima! Grazie!